13 dicembre 2022, 13 dicembre 2023. Compia un anno la riapertura del Museo archeologico liveriano completamente rinnovatosi nell'allestimento curato dallo studio di architettura Start. Un anno fondamentale per l'ente Olivieri riappropriatosi del museo dopo dieci anni di travagliata chiusura e annessi lavori di ripristino susseguenti a infiltrazioni e ammaloramento dello stabile. Primo compleanno di un prezioso luogo della cultura ritrovato che si è deciso di celebrare aprendo il museo ad una giornata di festa che partirà dalle 17 del 13 dicembre all'insegne di musica, teatro, di una mostra fotografica, di un percorso interattivo per i più piccoli e anche dell'accessibilità di un museo raccontato in lis. Questo è stato un anno particolarmente direi bello, interessante con un ottimo riscontro da parte anche della cittadinanza, dei turisti che hanno visitato il nostro museo, sono venuti a trovarci e ovviamente il museo insomma anche per le sue qualità, la bellezza anche dell'allestimento ha riscosso un grande successo e quindi anche per questo abbiamo pensato di festeggiare insieme alla città questo primo compleanno e lo faremo in maniera così molto leggera e informale come siamo soliti fare e dedicando uno spazio importante ai bambini visto perché insomma anche nel corso di questo anno molti sono stati bambini e i ragazzi che sono venuti a visitare il museo anche in occasione di visite scolastiche e poi avremo uno spettacolo, un spettacolo musicale e anche una piccola mostra con immagini storiche dei precedenti allestimenti partendo dalla fine ottocento inizio novecento fino agli allestimenti degli anni e degli anni novanta. Momento centrale delle celebrazioni lo spettacolo reminescenza di Frida Neri a Nissa Guisi che sarà proposto alle 18, 19, 30 e 20 e 30. Daremo vita ad una piccola performance che si ripeterà per permettere di fruire a tutto il pubblico che arriverà man mano e la performance si intitola Reminiscenza. Nostra abitudine è quella di creare delle performance e degli spettacoli che evocano fatti storici, evocano lo spirito diciamo di reperti archeologici che in questo caso sono soprattutto romani e piceni attraverso una modalità che è quella più diciamo artistica, poetica, evocativa quindi avremo dei versi, dei brani di prosa e soprattutto delle canzoni che partono anche da iscrizioni come quelle ritrovate su un piccolo pezzo di ceramica delle tubature del tempio di Cupra fino a immaginare quelle che possono essere le atmosfere chiaramente con uno sguardo moderno però con le atmosfere e del del tempo che andiamo ad evocare.